È durissimo il giudizio della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Veneto 2014. Il Tribunale non ha parificato il bilancio e ha parlato di indebitamento occulto da parte della Regione. Nell'ambito sanitario, si legge nel provvedimento, non sembra essere decollata una tipologia programmatoria adeguata. La mancata parifica riguarda tecnicamente la gestione delle partecipate e la parte di bilancio relativa ai fondi comunitari. Giudizi che non sono stati graditi dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, assessore al bilancio nel 2014. Non hanno tenuto in nessun conto delle risposte che la Regione ha dato alle osservazioni che loro avevano fatto. Hanno mantenuto una posizione, secondo me, rigida e incomprensibilmente rigida perché se vengono a fare le pulci al bilancio della Regione Veneto non capisco perché hanno parificato bilanci di Regioni che assolutamente non hanno le caratteristiche né di equilibrio né di bontà della spesa che abbiamo noi. Avevamo già spiegato i punti contestati in un documento che è stato ignorato, spiega Ciambetti. La questione non finisce qui. L'analizzeremo, faremo anche ricorso perché, ripeto, a certe cose e a certe situazioni abbiamo già messo in evidenza che avevano sbagliato obiettivo e lo ribadiremo a livello centrale. Quello che arriva dalla Corte dei Conti è un giudizio di bocciatura netta sull'operato della Giunta in ambiti molto delicati, scrivono in una nota i consiglieri del Partito Democratico. Chiediamo a questo punto al Presidente Zaia un chiarimento urgente in Consiglio regionale. Siamo infatti preoccupati per le possibili ripercussioni sull'approvazione del bilancio di quest'anno. Critiche che Ciambetti rispedisce al mittente, viste le numerose prese di posizione politiche contro le Regioni, ipotizza è lecito pensare che le motivazioni di questo provvedimento non siano soltanto tecniche. Sembra un attacco al sistema delle Regioni, all'autonomia delle Regioni e mi permetto di dire anche alle Regioni che spendono bene i soldi pubblici.